Siamo in un vigneto di uva da tavola, varietà Vittoria, e ci occuperemo della selezione dell'uva da tavola, una fase importantissima. La selezione consiste nell'eliminare il grappolo meno nutrito e dare il giusto equilibrio al ceppo in modo che la pergola stessa può alimentare meglio i grappoli rimasti. Dopo la selezione dell'uva, un'altra fase della produzione dell'uva da tavola è l'acinellatura. Consiste nel togliere l'acino piccolo in modo da dare l'uniformità al grappolo. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.